Ciao a tutti, allora per chi mi conosce o per chi non mi conosce io mi presento, sono Made in A, specialista del colore, ho un negozio in via Vincenzo Foppa numero 40 a Milano. Volevo innanzitutto dire come state, che da tanto che non ci vediamo sono già passati tre settimane purtroppo di chiusura del mio salone, ma prima o poi il mio salone riaprirà con tante norme di sicurezza, ancora di più rigorosamente. Però nel frattempo che siamo chiusi io vi voglio dare un aiuto, vi voglio anche dare dei consigli, quindi chi ha voglia di riprendere la sua ricrescita, oppure ha bisogno dei prodotti che ha finito, oppure dei consigli personalizzati, mi contatti al numero 38 15 84 694, anche con una videochiamata vi posso dare dei consigli, che non ci sono problemi. Così facciamo una chiacchierata, una consulenza e io vi do i consigli che dovete prendere, che dovete comprare, anche perché ci siamo attivati online, quindi vi possono arrivare anche benissimo i prodotti anche da casa, quindi non ci sono po' limiti, soprattutto per chi ama mantenere un biondo come il mio, se vi ricordate bene, io 15 giorni fa ho fatto un nostro bel Brasil Lumination, abbiamo sfumato, me l'ha fatto mio marito, dato che è un parrucchiere anche lui e quindi me l'ha fatti a casa, mi ha coccolato, oggi mi ha fatto la piega e poi avevo voglia di coccolare ancora il mio capello, mi sono fatta fare una bella maschera nutriente che mi ravviva il colore, quindi sono delle maschere che sono molto ottimi, ravvivono il capello, danno luce in testa al capello, nutrono il capello soprattutto e quindi aiutano anche nell'asciugare il vostro capello, rimangono setosi, billantati e mantiene la struttura del capello sano e anche il colore ha una copertura di un 50% dei capelli bianchi, quindi può anche tamporeggiare nel momento che siamo chiusi. Io vi saluto tantissimo, non vedo l'ora di rivedervi a tutti, a coccolarvi e anche le nuove clienti se hanno bisogno una consulenza personalizzata mi possono contattare con una videochiamata, vi posso dare un consiglio dato che sono una specialista del colore e se vogliono realizzare un colore oppure hanno paura di osare, di non lo so, di cambiare look e io vi posso dare dei consigli con i nuovi strumenti che abbiamo con queste videochiamate che vengono benissimo, voi mi fate vedere i vostri capelli, i vostri desideri, il vostro problema e nel frattempo lo possiamo risolvere anche così. Io vi saluto a tutti, vi abbraccio virtuale e prima o poi apriremo perché il parrucchiere è utile, io penso che tutte le clienti, tutte le donne non vedono l'ora di essere coccolate da menine specialisti del colore. Io vi abbraccio e avete un po' di pazienza che riapriremo il mio salone e vi coccoliamo tutti con nuove novità e nuove tendenze, soprattutto sui colori che faremo un'estate bella, splendente, con dei colori sgargianti, luminosi, che durano di più nel tempo, ci saranno tante novità, quindi ci vedremo a presto, un bacio a tutti da menine specialisti del colore.